Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle è entrato alla Camera dei Deputati per la prima volta l'11 marzo del 2013. Quando siamo arrivati qui, due anni e mezzo fa, questo palazzo costava un miliardo e 87 milioni di euro. Oggi, dopo più di due anni di nostre proposte, ordini del giorno e denunce pubbliche, costa 230 milioni di euro in meno. La variabile storica siamo stati senz'altro noi. Ci volevano persone a contatto con la realtà quotidiana per raggiungere questo risultato. Fino al nostro ingresso, qui si è sempre speso tutto alla faccia di noi italiani, ai quali i partiti facevano credere di stare lavorando per loro. Qui alla Camera, come in centinaia di altri posti pubblici italiani, abbiamo applicato il nostro metodo, un modo di agire che ci ha sempre reso la forza politica credibile agli occhi dei cittadini italiani. La prima cosa che fa un eletto del Movimento 5 Stelle quando entra in una qualsiasi istituzione pubblica del Paese è cercare di capire in che modo vengano spesi i soldi delle sue tasse e di quelle di tutti i cittadini come lui. Il primo giorno di mandato andiamo negli uffici dell'amministrazione e apriamo i bilanci. Dopodiché iniziamo a recuperare risorse da sprechi e privilegi per darli a settori del Paese che ne hanno bisogno. È quello che farebbe qualsiasi imprenditore che arriva in un'azienda che va male, o un padre e una madre di famiglia che devono arrivare a fine mese. È quello che fa chi vuole operare per il bene di tutti. Dai bilanci si evince come questo posto è stato ed è tuttora la mangiatoia di partiti di destra e di sinistra che in piazza o nei salotti tv fingono di stare dalla parte dei più deboli, mentre qui dentro divoravano risorse pubbliche senza saziarsi mai. Appena entrati abbiamo iniziato a mettervi a dieta. Se oggi dalle casse di questo palazzo non si pagano più gli affitti d'oro da 32 milioni di euro all'anno è merito del Movimento 5 Stelle. Sono bastate tre righe di legge con la prima firma di Riccardo Fraccaro per far saltare un business milionario ed inutile come quello degli affitti dei palazzi marini. Tre righe che voi partiti della prima e della seconda Repubblica vi siete sempre guardati bene dall'approvare prima del nostro arrivo. Se oggi la Camera non pagherà più i soldi per il circolo di Montecitorio e con tutto il rispetto se volete andare a giocare a tennis vi pagate il campo con i vostri soldi è merito del Movimento 5 Stelle che lo ha denunciato. Se non esistono più gli appartamenti gratis per questori e vicepresidenti dove anche i fiori oltre al frigorifero venivano rimpiazzati a spese della Camera è grazie alla nostra rinuncia ad inizio mandato. Se è richiesto il DURC a tutte le aziende che stipulano un contratto con la Camera è grazie ad un nostro ordine del giorno. È mai possibile che se non lo avessimo richiesto in questo palazzo le aziende senza regolarità contributiva potevano lavorare mentre tutte le altre disgraziate che ogni giorno in Italia lavorano con il pubblico vengono tagliate fuori. Abbiamo cacciato dagli elenchi da cui assumere personale obbligatorio dei gruppi parlamentari un mucchio di amici, comare e politici trombati che ogni partito dai DV a Forza Italia aveva messo dentro. Dal primo giorno abbiamo ingaggiato una battaglia senza quartiere sugli allegati A e B. Se si è data una sforbiciata alle consulenze pazze è stato grazie alla pressione dei miei colleghi. Se l'assegno informatico ai parlamentari di 2.500 euro sparirà dalla prossima legislatura è merito della richiesta del Movimento 5 Stelle, come se non bastassero le migliaia e migliaia di euro che si incassano ogni mese anche l'assegno informatico. Ma, Presidente, non abbiamo ancora finito. Anzi, il Movimento 5 Stelle ha appena iniziato. Il nostro metodo, se andremo al Governo, se lo vorranno i cittadini italiani, sarà semplice. Tagliamo quello che non serve e investiamolo in settori produttivi per il Paese, oppure nel taglio delle tasse. Davvero. È così che fanno i nostri sindaci. Nei nostri comuni, tagliando sprechi e privilegi, non abbiamo fatto pagare la tasi ai cittadini di Ragusa ed a Semini. Stiamo creando un distretto dell'Hightech a Livorno. Saliamo le voragini di bilancio che ci avete lasciato a Pomezia, Augusta e Civitavecchia. Avviamo una nuova gestione dei rifiuti che faccia pagare l'immondizia per quanto la famiglia produce davvero. E stiamo investendo in turismo. Ormai è matematico. Basta mettere i soldi delle nostre tasse nel settore giusto e l'Italia riparte. Ogni miliardo di euro investito in ristrutturazione energetica in Italia crea 17.000 nuovi posti di lavoro. Ogni miliardo di euro investito in energie rinnovabili 3.000 nuovi posti di lavoro. Ogni euro investito in turismo in Italia produce altri 6 euro per lo Stato. Ogni euro investito invece nei vostri stipendi produce la legge Fornero, l'aumento delle tasse locali, il taglio dei posti letto in ospedale, l'Imo agricola, mafia capitale e chi più ne ha più ne metta. Ormai non c'è più alcun dubbio su dove tagliare e dove investire. Appena al Governo faremo in modo di far funzionare questo palazzo con la metà dei soldi e quelli che avanzano li metteremo in reddito di cittadinanza, aiuto ai pensionati e misure per agevolare imprenditori e popolo delle partite IVA, che in questa Italia disgraziata sono quelli che producono ricchezza ma vengono sempre più vessati. Presidente, questo palazzo costa ancora troppo. Voi costate ancora troppo. Purtroppo siamo all'opposizione e ogni anno che si approva il bilancio ci bocciate il 90% delle nostre proposte, salvando i soliti e odiosi privilegi che ormai in tutta Europa, movimenti come il nostro, stanno provando a smantellare. In questo palazzo ogni anno si spendono 81 milioni e 300 mila euro di stipendi ai parlamentari. Alcuni di questi continuano a prendere questi soldi dalle patrie galere. Noi siamo gli unici che restituiscono ai cittadini 10 milioni di questi soldi sotto forma di finanziamenti alle imprese e sono già 8 mila le imprese che hanno giovato di questi soldi. Cioè, tagliandoci oltre metà dello stipendio, facciamo partire nuovi posti di lavoro. Quando siamo arrivati in questo palazzo, il primo atto che vi abbiamo presentato della nostra storia è stata la richiesta di dimezzamento di questi 80 milioni di euro. Sapete cosa ci avremmo fatto noi con 40 milioni di euro? 120 asili nido nuovi di zecca ogni anno per i bambini italiani, ovvero 6 nuovi asili nido all'anno in ogni regione, solo tagliando la metà degli stipendi dei deputati. Vedo sempre più famiglie costrette a portare i propri bambini agli asili privati che costano un botto e qui si buttano soldi. Dalle casse di questo palazzo escono ogni anno 138 milioni di euro delle tasse dei cittadini per pagare i vitalizi agli ex parlamentari. Gente che è stata in Parlamento anche per un paio d'anni e prende fino a 10 volte la pensione minima di un italiano che ha lavorato per 35 anni. Questi soldi vanno subito tagliati. Con 138 milioni di euro si possono acquistare ogni anno 22 nuovi treni per pendolari, aiutando 20 mila persone a viaggiare come esseri umani e non più come sardine in scatola. Per non parlare della ricaduta occupazionale, 5 mila nuovi posti di lavoro subito. Non contenti di dargli il vitalizio? Spendete anche quasi un milione di euro per pagare i viaggi agli ex parlamentari. Spiegatemi perché si pagano viaggi a gente che non è più in carica. Questi soldi li invierei subito, volentieri ai cittadini del Veneto, colpito dal tornado una settimana fa, o ai terremotati dell'Emilia Romagna che vivono ancora nei container perché dall'inchiesta Emilia si è scoperto che si mangiava anche sui terremoti. Oppure potremo acquistare 20 nuove autopompe ai vigili del fuoco della provincia di Caserta, dove nel bel mezzo della terra dei fuochi c'è il rapporto vigile del fuoco cittadino più basso d'Italia. Spendete un milione di euro di affitto all'anno per un deposito per mobili, faldoni e materiale inutilizzato. Ed oltre al danno, anche la beffa. Paghiamo questi soldi ad un altro ente pubblico, l'Inail. Siamo alla follia, lo Stato che paga allo Stato, tasse dei cittadini. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma i ratti stanno divorando tutto. Mobili, faldoni, eccetera. Con un milione di euro, per esempio, il nostro governo riattiverebbe la posta elettronica certificata per tutti i cittadini italiani. Era un servizio attivato dal governo qualche anno fa e tagliato da Renzi, un servizio che faceva risparmiare qualche soldo ad avvocati, commercialisti e a coloro che ne avevano bisogno ogni giorno per lavorare. Qui si spendono 3 milioni di euro in software e 5 milioni di euro in assistenze informatiche. Sono spese che vanno tagliate. In tutta Europa le amministrazioni pubbliche utilizzano software open source, gratuiti. Qui si pagano ogni anno 3 milioni di euro di licenze. Inoltre, abbiamo i nostri servizi informatici interni, perché paghiamo altri 5 milioni di euro di servizi informatici esterni. Con 8 milioni di euro riasfaltiamo ogni anno le strade di una città media italiana. Ci sono comuni che, per i soldi che gli avete tagliato con la legge di stabilità, hanno totalmente rinunciato ad asfaltare le strade. 550 mila euro di spese postali ogni anno. Capisco che solo da pochi mesi la Camera abbia aperto la pagina Facebook, ma sono 20 anni che esiste la posta elettronica. Non so al momento in quale servizio pubblico per i cittadini spenderei 550 mila euro, ma anche inviare una cartolina a tutti gli italiani di buone ferie avrebbe più senso. In questo palazzo si spendono 5 milioni e mezzo di euro in servizi di stampa degli atti parlamentari, ovvero ogni anno per stampare quel fascicolo che troviamo ogni giorno in aula e forse anche per pubblicarlo online si spendono 5 milioni di euro. Poi ogni parlamentare compra l'iPad e il computer con l'assegno informatico di 2.500 euro. E così mi chiedo a cosa serva il cartaceo se ogni parlamentare è dotato di un supporto informatico. L'Estonia ci ha superato da un pezzo. Nel loro Parlamento non esiste più un foglio di carta. Tutto è digitalizzato. Questa spesa è uno schiaffo agli italiani. Stanziamo questi 5 milioni di euro alla Polizia, mettiamo la benzina nelle volanti e garantiamo più sicurezza ai cittadini italiani. 1 milione e 660 mila euro per traslochi e facchinaggio. Noi del Movimento 5 Stelle con 1 milione e 660 mila euro di stipendi restituiti aiutiamo a partire circa 70 nuove aziende in Italia ogni anno. Voi li spendete per traslochi. Se volete un milione e mezzo di euro apriamo un'azienda di traslochi e facchinaggio e almeno facciamo girare l'economia. 200 mila euro di auto blu e 120 mila euro per trasportare le vostre scorte. Al di là dei soldi, auto blu e scorte sono il mondo in cui vi siete isolati per decenni. Il totale estraneamento dalla realtà, palazzo, auto blu, palazzo, nessun contatto più con i cittadini se non in blindatissimi eventi pubblici dove se facevi domande venivi allontanato. Sono uno di quei cittadini. È isolandovi che avete iniziato a credere che tutte le spese assurde che ho elencato prima vi fossero dovute. Ma il sogno è finito. È ora di svegliarsi. Morale della favola, questo palazzo ci costa circa 100 mila euro per ogni ora di funzionamento. Per produrre obrobri come gli studi di settore che stanno massacrando i nostri commercianti e imprenditori o il blocco delle pensioni bocciato dalla Corte Costituzionale. 100 mila euro all'ora per approvare leggi che tagliano milioni di euro alla terra dei fuochi per metterli nell'Expo di Milano. Ma, Presidente, non voglio scoraggiare nessuno. Io sono fiducioso. Quello che ho descritto oggi riguarda solo una parte dei soldi che si sprecano alla Camera dei Deputati. Poi c'è il Senato, che è messo ancora peggio. Ci sono gli enti inutili. Ci sono 20 regioni usati come bancomat dalla politica. C'è la Corte Costituzionale e il CSM. C'è anche il Quirinale, se vogliamo, a cui dare una sforbiciata. Sono salvadanai di sprechi e privilegi da rompere per far ripartire l'Italia. Non so se dall'opposizione riusciremo a romperli tutti. Ma non appena saremo maggioranza state sicuri che ci riprenderemo fino all'ultimo euro. Taglieremo le vostre spese folli e le reinvestiremo in abbassamento delle tasse e servizi ai cittadini. Senza se e senza ma.